Attenzione perché signori c'è... Avvocato, si ricorda quel ragionamento che mi ha fatto supirlo qualche giorno fa? Quel signore lì? 10,50, cash, pagato io, casello di Milano. E' pronto lì a metterla a gonfiare la rete, a farci godere come dei ricci, vai Andreuccio e va a te, ancora lui, ancora lui, con il goniometro, con il compasso, con la matitina precisa, me l'ha messa dentro. Ringraziate il Milan! Vedi che c'è sempre un pezzo di Milano in Europa. Dette grazie al Milan! Ti va bene la trombetta per dirti grazie? Mamma mia, Pirlo, ringraziate il Milan, chiedeteli scusa, chiedete scusa a voi a Pirlo. Mamma mia me lo sto rivedendo! Ma il gognometro Il gognometro Gol del Lione Mentre 18 minuti 1 a 1 ragazzi No, no, no Tevez, gol annullato a Tevez Posizione irregolare, vediamo di chi Palla per Marchese, avanza il tiro Gol! Deviato, il re, il re, il re La regola del re, caliamo il re Caliamo il re, caliamo il re Caliamo il re, il re principe re Il re principe re Aiutato dalla dea bendata Il pallone, parte Va verso destra, trova la deviazione Finisce nell'altra parte Cucu, cucu, cucu Il Lione forse Non c'è più Ma è una roba incredibile Guarda qua Attenti però, perché 2 a 2 passano loro No No, no Abbiamo vinto No, noi dobbiamo non perdere Non dobbiamo solo più perdere Esatto Possiamo pareggiare Pareggiano e poi segnalo Eh vabbè E poi vanno in finale e vincono All the flow is made to love All the flow is made to love All the flow is made to love